è che è una situazione complicata, ripeto, l'ha detto anche lei, che si complica ulteriormente per la carenza di alloghi, per la fronte all'emergenza, cioè, ripeto, e sono queste dinamiche che il Comune non governa totalmente, perché sono dinamiche determinate anche dalle politiche nazionali, non so se mi spiego, quindi lo sforzo che fa il Comune, altrimenti non saremo qui, è quello di cercare di mettere insieme i soggetti istituzionali e, come dire, le componenti sociali per trovare una soluzione e siamo pronti ad ascoltare anche le vostre proposte, perché alla fine dobbiamo fare in modo che, ripeto, non per scaricare la responsabilità ci mancherebbe altro, per trovare soluzioni condivise, cioè il fatto di l'individuazione di alloggi liberi è un lavoro che il Comune sta facendo, ma che risulta molto complicato, tant'è che lei faceva riferimento ad alloggi presenti in Comuni di Mitrofi, che si è reso necessario perché in città, ripeto, proprio per i fenomeni che ben conosciamo, la riduzione degli alloggi disponibili è drammatica, possiamo dirlo, perché si ripercuote, ha delle ripercussioni molto gravi su aspetti che sembrerebbero non avere un legame con quelli, ma noi diciamo che è bello, c'è il turismo, sono tutti più ricchi, però in realtà abbiamo poi delle conseguenze negative per le fasce sociali più svantaggiate. Allora dobbiamo cercare di capire, seduti ad un tavolo, o voglio dire in qualunque altro contesto, come poter obviare a questo problema. È chiaro che è complicato perché ciascun proprietario, ciascun soggetto titolare di un diritto di proprietà, è libero di fare della sua casa quello che vuole, perché voglio dire, è un diritto anche questo costituzionale, per cui bisognerebbe trovare delle forme di incentivo nei confronti dei proprietari per fare in modo che siano più disponibili a destinarle alla fatta. È chiaro che ci vuole anche, adesso è stata nominata da poco, anche il Consiglio Municipale, trovare anche all'interno del Consiglio della Medicità Metropolitana, cioè trovare anche all'interno dei comuni vicini delle soluzioni che ovviamente sono soluzioni tampone, ti rendo conto che dire a una famiglia di risposta di abitonto crea dei problemi, però sono tentativi di trovare comunque un tetto ed una casa delle persone che altrimenti rischierebbero. Ma sono, ripeto, non sono soluzioni definitive, sono soluzioni temporanee. Infatti qua è il problema. Allora, facciamo una cosa, a questo punto ci aspettiamo che, dato che la prefettura il febbraio scorso ha convocato un tavolo sull'emergenza abitativa, specialmente rivolto alla monostra in colpevo. Ci aspettiamo che si protocolli assieme, tra tutte le realtà sociali e il comune, una richiesta di incontro, di rinnovo di quel tavolo. Questo lo possiamo fare? Scusa, sì. Il comune, da quello che mi risulta, il sindaco è già in contatto con la prefettura, ha avuto già qualche incontro. C'è un tavolo con i partiti sociali, però. E quindi, adesso ne parliamo con il sindaco, oggi però non è che si può andare in prefettura. No, non stiamo dicendo oggi. No, anche perché non credo che ci sia nessuno in prefettura. Stiamo dicendo che dalla settimana prossima non sarà un problema il fatto che protocolliamo assieme come quelle realtà sociali che sono già in quel tavolo riconosciuto e il comune adesso individuiamo il procedimento giusto per chiedere in prefettura un incontro e vi facciamo sapere. Ci sentiamo la settimana prossima.